A Polistena ci sarà una nuova carta dei servizi sociali d'ambito, ad annunciarlo il sindaco Michele Tripodi, specificando che con la riorganizzazione della ripartizione comunale dei servizi sociali è stata data una spinta importante alle politiche d'ambito, che nel giro di qualche mese potranno avere dunque una nuova vitalità grazie alla costituzione di un nuovo gruppo di lavoro composto da nuove sette risorse umane, assistenti sociali, mediatrici, educatrici, psicologa, assunte con fondi provenienti dal fondo povertà e coordinate da un nuovo responsabile assunto con contratto ex articolo 110. Nel primo mese di attività, dice il primo cittadino, è stata convocata la conferenza dei sindaci, sono stati pubblicati gli avvisi relativi agli utenti che intendono iscrivere i loro bambini all'asilo nido distrettuale Villa. E poi l'azione RTPAC Infanzia, l'affidamento della gestione della struttura ad un operatore qualificato, organizzato in tal senso. Il responsabile delle politiche sociali ha anche pubblicato l'avviso rivolto agli utenti con disabilità grave. Il bando è stato denominato dopo di noi. Ancora specifica il primo cittadino, con l'annualità 2016, 2017 e 2018, che favorisce l'inclusione di soggetti diversamente abili nel contesto sociale, nonché l'avviso di facilitazione digitale indirizzato alla formazione nell'era della informatizzazione, che spesso vede molte persone non ancora pronte alla transizione digitale. L'ufficio di piano, dice il primo cittadino, sta inoltre valutando le domande per contributi alle persone con disturbi dello spettro autistico assegnati con l'iniziativa Includi Calabria, oltre che le autorizzazioni per l'inserimento in struttura. A tal proposito, si è proceduto a liquidare le rette dovute alle strutture semiresidenziali in convenzione che operano nel territorio del distretto e le rette per i minori non accompagnati. Insomma, l'ambito distrettuale sta proseguendo nelle attività di erogazione dei voucher ad anziani over 65 e persone diversamente abili. Infine, su proposta della conferenza dei sindaci, si è rimodulato il progetto PRLNS finanziato con i fondi PNRR che punta a migliorare le condizioni di vulnerabilità dei soggetti diversamente abili insieme all'avvio di riprogrammazione dei bandi vita indipendente.